Bentornati! Oggi parliamo di aggressività e rabbia. Nel video di oggi vi spiegherò che cosa penso di queste emozioni e di come riuscire a gestirle. Ma ora vi lascio con la sigla! Ciao, io sono Angelo e sono un psicologo. Aiuto le persone a migliorare la propria autostima e le proprie relazioni interpersonali attraverso un cambiamento nel modo di pensare. Se non lo avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube. In basso a destra in questo video troverete un piccolo logo con il mio nome. Cliccando lì vi potrete iscrivere subito. Ma adesso parliamo di aggressività e rabbia. La rabbia e l'aggressività sono emozioni universali. A differenza di altre emozioni come la tristezza, come l'ansia, la rabbia è un po' connotata da una sorta di pregiudizio. Infatti molte persone giudicano in maniera negativa sia l'emozione della rabbia sia la tendenza all'aggressività. È importante invece riconoscere che le emozioni non sono negative in quanto tali. Possono essere negative le manifestazioni di queste emozioni. Quindi come prima cosa è fondamentale non demonizzare le emozioni come la rabbia o l'aggressività. In un video precedente vi ho parlato proprio di rabbia e di come riuscire a gestirla. Se non avete visto il video vi lascio il link in descrizione. Oggi voglio fare un discorso più ampio e alla fine di questo video vi darò un altro esercizio su come gestire la rabbia e l'aggressività. Ma riflettendo un po' sulla rabbia che cosa possiamo dire? Che la rabbia, come ho detto prima, non è un'emozione negativa. Può essere problematica la manifestazione della rabbia. Per esempio ci sono persone che rivolgono la rabbia dentro loro stessi, creando qui un circolo vizioso di forte autocritica e forte autosvalutazione. Le persone che hanno una rabbia verso se stessi tendono poi a vivere un senso di sconforto verso tutto ciò che fanno. Il buon Freud in passato diceva proprio che la depressione non era altro che la manifestazione di una rabbia rivolta verso se stessi. La scienza ci ha detto che la rabbia quando è covata dentro noi stessi può generare anche conseguenze fisiche come disturbi nel sistema cardiocircolatorio oppure disfunzioni a livello ormonale. È fondamentale quindi imparare a gestire le proprie emozioni. Dall'altra parte invece quando non riusciamo a gestire la rabbia che proviamo verso l'esterno, verso gli altri, rischiamo di rovinare tantissimi rapporti. Le persone che tendono ad essere rabbiose verso l'esterno sono quelle persone che con il tempo tendono a rimanere sole. È fondamentale quindi imparare a gestire meglio le emozioni della rabbia e dell'aggressività. Ma dobbiamo anche capire che la rabbia e l'aggressività sono fonte di grande energia. Se voi provate ad immaginare come vi sentite fisicamente nel momento in cui provate rabbia, sentite dentro voi stessi una grande energia. È fondamentale canalizzare questa energia in maniera costruttiva. La rabbia quando è canalizzata in maniera costruttiva può spingerci verso l'indipendenza. Altre volte quando per esempio proviamo rabbia perché abbiamo subito un torto, questa energia può darci anche la forza di mettere giusti confini tra noi e gli altri. È importante quindi riconoscere questo potere creativo, il potere costruttivo dell'energia della rabbia e dell'aggressività. Ma ora veniamo all'esercizio. Che cosa possiamo fare quando proviamo rabbia? In un precedente video vi ho parlato di rabbia e di come gestirla. Oggi vi voglio suggerire un esercizio più fisico. Provate a riconoscere quando avete provato rabbia, quando sentivate dentro di voi questa energia. Come vi sentivate? Quali sintomi, quali reazioni fisiologiche avevate? Sentivate le braccia più contratte? Sentivate la sudorazione? Sentivate l'attacchia cardia? È importante imparare a riconoscere le reazioni fisiologiche collegate all'emozione della rabbia. Perché serve? È attraverso questi indizi possiamo riconoscere quando stiamo entrando in una modalità di rabbia, quando stiamo entrando in una modalità di aggressività. Facendo questo, quando abbiamo riconosciuto che ci stiamo agitando troppo, possiamo fermarci e cercare attraverso la respirazione, attraverso la distrazione, cerchiamo di rallentare le reazioni fisiologiche. Cerchiamo di smorzare l'aggressività, questa energia che abbiamo dentro. Dopo aver abbassato il livello di energia che proviamo, possiamo riflettere su come canalizzare in maniera costruttiva questa energia. Chiediamoci in che modo posso canalizzare costruttivamente questo potere, questa rabbia? Quali comportamenti posso mettere in atto affinché io sfrutti questa energia in maniera costruttiva? Rispondendo a questa domanda riusciamo a creare quindi dentro di noi un nuovo comportamento, un comportamento più costruttivo attraverso il quale sfogare la rabbia, sfogare l'aggressività. Riassumendo quindi, gli step per gestire in maniera più costruttiva la rabbia sono tre. Il primo step è riconoscere le sensazioni fisiologiche legate a questa emozione. Il secondo step è quello di cercare, attraverso delle strategie pratiche come la respirazione, la distrazione, cambiare il luogo dove ci si trova, gestire queste energie, cercare di farla calmare. Il terzo step è chiedersi quali comportamenti possiamo mettere in atto per gestire in maniera costruttiva questa energia. Grazie a questi tre step riusciamo a creare quindi dei circoli virtuosi e utilizzare in maniera positiva la grande energia concessa dalla rabbia. Spero che questo video sia stato interessante, se lo è stato esprimetelo con un like così mi darete anche un buon feedback. Se avete domande, curiosità potete tranquillamente scrivere nei commenti e cercherò di rispondervi. E mi raccomando seguitemi anche su Instagram e Facebook dove avremo uno scambio quotidiano e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.